testo posizionate il mouse scrivete rosso cartella scrivete il nome della cartella gioco rosa la grafica sceglitela per il vostro piacimento sceglitela poi andate su poi così poi il quadrato fate così prendete la mappa fate così 24 per 22 fate ok continuate per il giardino gioco giusto se registro la mappa voglio vedere giusto mettete un po' d'acqua qualche roccia qualche roccia qualche roccia mettete no qualche roccia ok fate qualche roccia qualche roccia ok fate qualche alberello ok ok poi fate un evento nuovo evento scegliete il progetto qui scegliete il progetto ok poi adesso fate un nuovo evento qua mettete sull'erba lo spiego meglio tasto destro nuovo evento mostra il messaggio mette la faccia del personaggio io metto metterò dico quale metterò io no metterò questa io senti qua ciao bisogna scrivere ciao ho sbagliato ciao come va oh sbagliato scusate come va oggi poi andate su inserisci sul testo è fatto mostra fumetto 21 domanda poi fate mostra fumetto e scrivete bene bene grazie e mettete la faccia e mettete la faccia e mettete la musica su 3 cambia bgm battaglia 9 fermiamo la musica se no si sente la mia voce e poi e mettete la mia battaglia e poi mettete la mia battaglia continua la battaglia puoi fuggire puoi fuggire poi qui scrivete e mettete la mia battaglia mostra testo lo mettiamo siiii eeeh 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 mettete eeeh 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 la seconda dopo il 7 battle 8 sconfitta un'altra musica dungeon 4 quindi mettete il dungeon dopo il 3 4 poi eeeh mettete sfondo battaglia fate così ok perfetto aspettate sfondo battaglia mettete questo entice fate le ripetizioni orizzontale 4 ok troviamo la ah lo switch devo mettere giusto lo switch non dimenticate quindi andate la pagina A1 quindi switch locale A andate qui e premete switch locale A ecco switch locale A ok premiamo l'evento si prova l'evento e si salva ricordatevi di salvare parlate parlate solo premendo il video e parlate con la tip ciao come va oggi bene grazie eric e voilà per la messa adesso dovete combatterle sono facile da battere è chiaro ecco qui perfetto rotiamo si ok ok e quindi si ripeterà l'evento grazie ciao il mio primo tutorial è finito ciao 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 e vederci grazie per la seguita il mio primo tutorial su come fare una mappa e un gioco ciao 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 ciao